Dopo una serie di incontri svolti qui in Liguria c'è stata la nascita ufficiale a Roma di questo nuovo partito nato da questo progetto con l'onorevole Raffaele Fitto. Eravate presenti nella capitale? Sì, eravamo presenti sabato scorso, il 28, in cui è nato finalmente il partito. Dopo una serie di incontri che sono venuti a Roma sempre il 5-6 novembre, che è stata denominata la Convenzione Blu e poi il 17 dicembre un incontro denominato il Patto Blu, finalmente sabato scorso è nato il partito che si chiama Direzione Italia. Questo nome deriva anche da una scelta fatta da noi simpatizzanti per l'onorevole Raffaele Fitto che abbiamo votato questo nome insieme ad altri. Questo naturalmente è risultato quello più votato e di conseguenza il nome del partito è diventato Direzione Italia. Un partito che si colloca nel centro-destra che è stato un po' una confederazione di più movimenti civici. Parliamo del Molise, insieme per il Molise di Iorio piuttosto che riformatori sardi, piuttosto che nel Friuli autonomia responsabile. In Calabria un altro, anche il Presidente della Regione Calabria fa parte di questo partito. Renzo Rosso che è stato un candidato a Torino, che ha abbattuto anche il centro-destra con targato Forza Italia, è riuscito ad arrivare davanti. Tutti siamo confluiti dentro questo nuovo partito che si chiama Direzione Italia. Già diversi esponenti locali si sono avvicinati a questo progetto. Siete partiti quindi con una delegazione per Roma? Siamo partiti con una delegazione per Roma, sia di Imperia ma anche di tutta la Liguria, capitanati dal Professor Cappurro che è il coordinatore regionale, che tanto tempo e tanta energia ha speso per questo partito perché mi viene a chiamarlo Movimento, ormai è proprio un partito vero e proprio. Siamo andati giù sabato e abbiamo appreso il nome proprio sabato stesso perché prima non si sapeva nulla appunto perché c'era un'elezione popolare. Questo anche lo dico perché si è passati dai partiti in cui il voto era facoltativo e l'applauso è obbligatorio a un partito dove il voto è obbligatorio e l'applauso è facoltativo. Questo per dire che le scelte vengono fatte collegialmente, non solo dal vertice ma proprio anche dalla base. E a questo punto il lavoro come proseguirà qui a livello locale? Il vostro lavoro? Il nostro lavoro a livello locale sarà naturalmente parlare con le persone, proporgli il nostro programma per spiegargli quello che è il nostro programma, il nostro partito, per coinvolgerle e per fare un gruppo che è già abbastanza numeroso sia a livello locale ma anche sul Savonese, su Genova dove tra l'altro ci saranno nella prossima primavera le elezioni dove comunque abbiamo anche due consiglieri della città di Genova De Benedictis e Mazzei che sono già della nostra partita diciamo. Poi su Savona adesso ci stiamo muovendo su Imperia stiamo iniziando a tessere dei contatti e si vedrà, anzi chi fosse interessato può anche contattarmi per parlare, per discutere, per capire quello che manca nel centro-destra attualmente e quello che invece si può fare.